Ciao ragazzi, risolviamo altri problemi sulla parabola. Data l'equazione y uguale x alla seconda meno 2x più c, che rappresenta infinite parabole, dobbiamo determinare quella specifica che passa per il punto di coordinate 2 meno 5. Questo è un esercizio di immediata risoluzione. Perché? Perché noi dobbiamo determinare un solo parametro. Perciò, visto che questa equazione deve rappresentare una parabola che passa per questo punto, imponiamo che x valga 2 e che y valga meno 5. Cioè facciamo meno 5 uguale 2 al quadrato meno 2 per 2 più c. 4 meno 4 fa 0, ecco che abbiamo già pronta la nostra parabola, che avrà equazione x alla seconda meno 2x meno 5. Determinare la parabola con asse verticale di vertice 1,2 è passante per il punto 2,0. Bisogna imporre il passaggio per il punto. Perciò noi abbiamo l'equazione della generica parabola. Imponiamo il passaggio per il punto P. Vuol dire che y è uguale a 0 e x è uguale a 2. Ma anche il vertice è un punto che appartiene alla parabola. Perciò scriviamo che y, cioè 2, è uguale a a per 1 al quadrato più b per 1 più c. E infine, prendiamo la scissa del vertice. Ricordiamoci che la scissa del vertice è meno b su 2a. Perciò meno b su 2a è uguale a 1, da cui otteniamo che b è uguale a meno 2a. E lo scriviamo qui. In alternativa, potevamo non imporre il passaggio della parabola per il vertice e scrivere le due coordinate del vertice, ovvero 2 è uguale a 4ac meno b al quadrato su 4a. Quindi si può fare in più modi. Ora posso sostituire al posto di b meno 2a. Perciò 2 per meno 2a fa meno 4a. Nella prima equazione. Nella seconda otteniamo a meno 2a più c. La terza l'abbiamo utilizzata e rimane così com'è. Qui otteniamo banalmente c uguale a 0. Se c uguale a 0, qui abbiamo 2 uguale meno a più 0, quindi a uguale meno 2, e b uguale meno 2 volte a. In definitiva, c uguale a 0, a uguale meno 2, b uguale 4. Questa è l'equazione cercata. Come possiamo determinare l'equazione di una parabola date l'equazione della direttrice e le coordinate del fuoco. Possiamo seguire due strade. La prima è quella di indicare quali sono le generiche coordinate del fuoco e della direttrice. Perciò sappiamo che l'ascissa del fuoco è meno b su 2a. Che l'ordinata del fuoco è uguale a 1 meno delta su 4a. Perciò qui abbiamo l'ascissa del fuoco e qui l'ordinata del fuoco. L'equazione della direttrice è questa. Perciò abbiamo le tre equazioni per poter determinare i parametri a, b e c. Vediamo un caso pratico. L'equazione della direttrice è y uguale a meno 5 mezzi e queste sono le coordinate del fuoco. Andremo a scrivere che meno b su 2a deve essere uguale a un mezzo che 1 meno b al quadrato più 4ac diviso 4a deve essere uguale a meno 3 e che meno 1 più delta su 4a, quindi lo scriviamo in questo modo, il meno sta davanti, deve essere uguale a meno 5 mezzi. Così questo meno e questo meno ce li togliamo dai piedi. E ora si tratta di svolgere i calcoli per risolvere il sistema. Non mi dilungo più di tanto, è un sistema di tre equazioni in tre incognite, bisogna fare un po' di conti, perciò una volta impostato il sistema andremo a risolverlo. Qui ad esempio se sommo la seconda equazione con la terza, ottengo 1 più 1 è 2, b al quadrato meno b al quadrato fa 0, 4ac meno 4ac fa 0, meno 12a più 10a fa meno 2a e ottengo subito che a è uguale a meno 1. E una volta fatto questo siamo in discesa perché se a è uguale a meno 1, b è uguale a meno a, quindi è uguale a 1 e in definitiva si tratta di trovare c. Ad esempio dalla terza, 1 più 1 meno 4 per meno 1c, quindi più 4c uguale meno 10, perciò 4c uguale meno 12, c è uguale a meno 3. Ed ecco l'equazione della parabola che stavamo cercando. Questo è un modo, non è l'unico. Noi possiamo sfruttare il fatto che la distanza di un punto P della parabola dal fuoco deve essere uguale alla distanza del punto P dalla direttrice. Perciò prendiamo un generico punto P di coordinate xp, yp e imponiamo che la distanza di questo punto dal fuoco sia uguale alla distanza di questo punto dalla direttrice. Nel nostro esempio quindi faremo x meno un mezzo tutto al quadrato più y meno meno 3 tutto al quadrato uguale la distanza punto retta dove però la retta è orizzontale. Perciò la distanza è il valore assoluto della differenza tra le ordinate quindi yp meno meno 5 mezzi dove per ordinata intendo proprio il valore di y. Cosa facciamo a questo punto? Quantità tutte positive e leviamo al quadrato. Ora posso anche non chiamare i punti xp e yp ma genericamente x e y così ottengo x alla seconda meno x più un quarto più y alla seconda più 6y più 9 uguale y alla seconda più 5y più 25 quarti così eliminiamo y alla seconda riarrangio un po' le cose quindi porto y al primo membro cioè 5y diventa meno 5y e ho 6y meno 5y che fa y poi al secondo membro mi rimane 25 quarti e porto tutto il resto perciò meno x alla seconda più x meno un quarto meno 9 così 25 quarti meno un quarto fa 24 quarti ma 24 diviso 4 fa 6 perciò abbiamo meno x alla seconda più x più 6 meno 9 e in definitiva meno x alla seconda più x meno 3 senza grosse sorprese abbiamo la stessa equazione che avevamo trovato in precedenza sono due modi diversi che devono condurre allo stesso risultato e così è stato e ora chiudiamo con un esercizio nel quale è presente una parabola con asse parallelo all'asse x scriviamo l'equazione della parabola con asse parallelo all'asse x che ha vertice nel punto di coordinate 1,2 ed è tangente alla bisettrice del primo e terzo quadrante vi ricordo la bisettrice del primo e terzo quadrante è questa retta qui che ha equazione y uguale x abbiamo il vertice in 1,2 qual è l'equazione della parabola con asse parallelo all'asse x x uguale a y alla seconda più by y più c noi possiamo utilizzare le coordinate del vertice che vi ricordo sono scambiate rispetto al caso di parabola con asse parallelo all'asse y ovvero questo è meno b su 2a mentre 1 è meno delta su 4a e poi la tangenza e quindi fare il sistema tra l'equazione della generica parabola e l'equazione della retta e imporre il determinante dell'equazione risolvente uguale a 0 oppure più semplicemente senza usare questa coordinata che prevede meno delta su 4a quindi un po' scomoda imponiamo il passaggio per il punto perciò ricapitolando quali sono le equazioni che dobbiamo utilizzare il passaggio della parabola per il vertice l'ordinata del vertice e l'equazione risolvente di questo sistema che andiamo subito a risolvere al posto di y mettiamo x perciò abbiamo ay alla seconda più by più c uguale y ma porto già y a primo membro da cui ay alla seconda più b meno 1 y più c uguale a 0 dobbiamo imporre che il delta di questa equazione sia uguale a 0 quindi il discriminante è questo al quadrato meno 4ac deve essere uguale a 0 cioè b al quadrato meno 2b più 1 meno 4ac deve essere uguale a 0 il sistema sarà quindi b al quadrato meno 2b più 1 meno 4ac uguale a 0 poi meno b su 2a uguale 2 e il passaggio per il punto per il vertice quindi vado a sostituire 1 al posto di x e 2 al posto di y e ottengo 1 uguale 4a più 2b più c in realtà qui voglio lasciare scritto b meno 1 al quadrato perché potrei trovare da qualche parte un b meno 1 quindi vediamo se questa scelta è azzeccata intanto b è uguale a meno 4a il resto lo ricopio ed ecco qui il sistema di tre equazioni in tre incognite da risolvere possiamo andare ad esempio a sostituire b nelle altre due equazioni perciò meno 4 meno 1 al quadrato meno 4ac uguale a 0 e nella terza andare a scrivere 4a meno 8a più c uguale 1 questo naturalmente è un modo per risolvere questo sistema da qui posso ricavare c uguale 1 più 4a e sostituirlo al posto di c nella prima equazione e da qui ricavare a 4a uguale meno 1 a uguale meno un quarto dopodiché sappiamo che b è meno 4a quindi b sarà 1 e infine c è 1 più 4a ovvero 1 meno 1 che fa 0 possiamo scrivere finalmente che x è uguale a meno un quarto y alla seconda più y questa è l'equazione della parabola che stavamo cercando e con questo siamo arrivati alla fine di questo video spero vi sia stato utile io vi ringrazio e alla prossima ciao ciao